Davide Bolognese del Basket Club Irpigna che ha iniziato con un successo il campionato di S&D ed ora si appesta alla trasferta di Ischia. Sì, abbiamo iniziato nel migliore dei modi la stagione dopo le due vittorie in Coppa Campania. La settimana scorsa abbiamo giocato in casa la prima giornata contro la polisportiva Folgore Nocera. Abbiamo vinto di 19 punti. La partita abbiamo mostrato un'ottima palla a canestro, il gruppo si è allenato molto in queste due settimane e il gioco di squadra è stata la nostra arma in più. Ecco, proprio i giovani dello scorso anno che adesso avranno la possibilità di avere davanti a sé tanti ragazzi di esperienza che possono trascinarli in questa nuova avventura. Sì, il Basket Club Irpigna è nato soprattutto per questo, cioè di valutizzare i giovani del territorio affiancandoli a delle persone di esperienza. L'anno scorso siamo rimasti su questa linea, quest'anno abbiamo riconfermato alcuni giovani dello scorso anno, altri sono andati via per motivi di studio oppure hanno preferito altre squadre, ma l'ossatura principale è rimasta la stessa, soprattutto per gli uomini di esperienza come Maurizio Ferrara, Marco Limongiello e per i nostri giovani come Ivan Terraia, Andrea De Luca, Francesco Domei, Michele Fucci, lo stesso Nicolo Grieco. Quindi diciamo che il progetto del Basket Club Irpigna continua. Ed ora questa trasferta a Ischia, che gara dovrete aspettarvi? Per noi del Basket Club Irpigna Ischia è un po' un tabù, perché l'anno scorso sia in casa che fuori casa abbiamo perso. Era un'altra società, però diciamo che la trasferta non è delle migliori. Non conosciamo le altre squadre perché purtroppo il campionato di Serie D si sa poco, però credo che giocando di squadra come le ultime partite e giocando quella palla a canestro che abbiamo mostrato nelle ultime partite proveremo a portare a casa i due punti.